Prosegue l'eccezionale momento di forma di Forlì, 9 vittorie e una sconfitta, prime in Serie A1 softball ed un perfetto 6 su 6 tra le mura amiche del Buscherini. Nel fine settimana a farne le spese le Metalco Thunders di Castelfranco. Nel primo inning Forlì segna subito con il doppio di Ilaria Cacciamani che porta a casa Gasparotto. Nel terzo inning il triplo di Martina Laghi spinge a casa i punti segnati da Giacometti e Ricchi. Il singolo successivo di Veronica Onofri vale il 4 a 0. Non si spegne il forcing offensivo nella ripresa, sulla battuta di Spiotta la difesa veneta è imprecisa e arriva a casa il punto del 5 a 0. Per chiudere la partita sul 6 a 0 finale ci pensa ancora una volta Marta Gasparotto. L'atleta azzurra, tornata finalmente in salute dopo delle ultime annate complicate dal punto di vista degli infortuni, colpisce quello che è il quarto fuoricampo della sua stagione in 10 partite, tornando leader solitaria in questa particolare voce statistica. Il finale non regala particolari emozioni se non la prima salvezza in carriera per la classe 2007 Kylie Milano. Gara 2 è un vero e proprio show offensivo per Forlì, nonostante ad aprire i conti. Ci pensi, Castelfranco Veneto, la valida di Sara Cianfriglia nella parte alta del primo inning porta a casa Soma e una ripresa che sembra complicata per le padrone di casa. Si risolve però con un eccellente doppio gioco difensivo. Passate all'attacco allora, le ragazze di Huni Franziska possono scatenare tutti i loro cavalli. E' Ilaria Cacciamani ad aprire i giochi per il pareggio con un doppio che porta a casa Gasparotto. Il singolo di Carlotta Onofri lancia poi in vantaggio la formazione di Forlì, che non perderà più la leadership della partita ed anzi andrà a incrementarla. Nel secondo inning, ancora una volta, Ilaria Cacciamani ancora con un doppio che spinge a casa Gasparotto e Giacometti. Sono quattro gli RBI nel doppio impegno per la lanciatrice di Forlì. Nella parte bassa del terzo inning poi, i cambi in pedana non portano i frutti sperati per le Thunders. Entra Zumerle che subisce però il doppio da parte di Veronica Onofri che porta a casa due punti. Il rientro della partente di gara 1 Chiara Biasi non frena. Le valide di Forlì, il doppio di Noemi Cortesi spinge a casa le sorelle Onofri. E il triplo di Beatrice Maroni porta a casa altri due punti. Finisce anticipatamente la partita il quarto inning sul 12-2 per Forlì.